Allenamenti intensi sul rifatto manto erboso del Presti per il Gela e Biancazzurri, agli ordini del tecnico Pietro Infantino sudano e tanto. All'orizzonte c'è la sfida ad alta classifica con la capolista Egea Virtus, un appuntamento che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. I gelesi filano come un diretto in campionato, imbattuti e con una gran voglia di fare bene. Noi dobbiamo proseguire sul nostro obiettivo, sulla nostra mentalità e finalmente torniamo a casa nostra, questo è che ci mancava e noi siamo felici che arriva la capolista, ben venga e noi dobbiamo seguire per il nostro cammino perché abbiamo un obiettivo e aspettiamo chiunque. Si parla sempre di obiettivi, ma qual è l'obiettivo del Gela? L'obiettivo del Gela sicuramente è arrivare prima possibile alla salvezza e ci salviamo, poi io spero di arrivare prima possibile così abbiamo un altro obiettivo da raggiungere, così almeno abbiamo anche un po' da divertirci e lo spero. Poi strada facendo vediamo, prima c'è la salvezza poi dopo pensiamo a tutt'altro. Domenica scorsa stavate vincendo, avete rischiato di perdere e alla fine avete pareggiato? Domenica scorsa è stata una domenica un po' strana perché siamo andati in vantaggio, siamo stati molto bravi, abbiamo rischiato di fare il 2-0, purtroppo non è andata così, c'è stato un 10 minuti di blackout però siamo stati bravi a non mollare, questa è infatti la forza del gruppo e devo dire grazie ai miei compagni perché non abbiamo mollato fino al 95esimo e questa è la nostra forza e quello che ci trasmette il mister è quello in cui stiamo lavorando da quanto è arrivato il mister, perciò questo è un grande gruppo che non molla. Se si vince o si perde sicuramente si stringe la mano all'avversario ma noi fino al 95esimo questo è il nostro obiettivo di non mollare. Domenica finalmente si tornerà a giocare al Presti e come dicevamo saranno in tanti a recarsi allo stadio e l'apporto dei tifosi sarà fondamentale. Questa è la nostra casa, deve essere il nostro fortino e domenica quando siamo andati a Leonforte è mancato il pubblico, è mancato il terreno di gioco perché noi siamo una squadra che stiamo tentando di giocare a calcio e ti posso garantire che tutti voi siete il dodicesimo uno in campo.